Dal 15 al 17 novembre 2024 Caltanissetto ospiterà l'International Street Food, evento culinario itinerante che per la prima volta arriva in Sicilia. La manifestazione parte di un tour di 150 tappe in Italia, si terrà in via la Regina Margherita e includerà una fiera artigiana all'interno della Villa Medea, organizzata dal confartigianato con 30 track botteghe partecipanti. L'evento offre piatti tradizionali da tutto il mondo come pizza, kebab e crepe, puntando su qualità e autenticità. L'iniziativa mira a celebrare la cucina di strade e a promuovere Caltanissetto come punto di riferimento per eventi di eccellenza gastronomica.